Si è svolta stamane presso l'Aula Magna dell'Istituto Trapanese Alberghiero Ignazio e Vincenzo Florio l'annuale convegno organizzato dalla SIAP, Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, tematica discussa, sicurezza ed educazione stradale. Giunto alla sua terza edizione dopo la parentesi di Alcamo e Castellammare del Golfo. Il posto per noi è il nostro direttore Riccardo Galatiuti. Ringrazio tutti per avervi invitato perché purtroppo l'omicidio stradale è la prima causa di morte fino a 40 anni. Quindi parlare di sicurezza stradale ai giovani è una cosa molto importante. Un domani avranno delle buone regole sulla strada. La maggior parte di noi, di questa scuola di istituto alberghiero Florio Edierice, compiono 18 anni. Quindi penso che sia una cosa giusta tenere questo incontro oggi per parlare della sicurezza stradale. Se uno per esempio non fa effetti di droga e tutte queste cose, ha proprio la testa nel guidare, non usare tipo cellulare e tutte queste cose, magari non ha incidenti. Non è mai troppo il tempo che si impiega per l'educazione stradale, soprattutto rivolta al popolo dei giovani, che noi celebriamo per le loro eccellenze. Però va anche, come dire, educato perché queste eccellenze poi non svaniscono in questi incidenti mortali. Certo, è un monito anche per noi, per le famiglie. Lo dirò che siamo in primis la famiglia che deve far sì che queste cose non accadano. Oggi purtroppo abbiamo due piaghe sociali. Questa degli incidenti mortali che vedono sempre come protagonisti i ragazzi e quello della violenza di genere. Sono due buboni che oggi attanagliano questa società. Dobbiamo lavorare. Queste iniziative devono assolutamente essere replicate, perché, come si dice, è ripetita you want. e quindi dobbiamo essere vicini ai ragazzi anche nell'educazione e nell'indirizzarli sulla strada della sobrietà.